bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le notizie delle ultime 24 ore di fortnite le trovate in questa manciata di minuti parleremo oggi del fort nightmares ovviamente di come si sta evolvendo di quello che ancora dovremmo aspettarci in game vedremo le nuove sfide vedremo tante cose e anche un deltaplano molto particolare vi ricordo che il fort nightmares l'incubo andrà avanti fino al 2 novembre vedremo però anche molti leaks e soprattutto le prime immagini che ancora non sappiamo che siano ufficiali del set dei ghostbusters insomma tanta tanta roba prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta ovviamente del fort nightmares insomma l'incubo ragazzi quindi la trama di questo fort nightmare 2020 è entrata realmente nel vivo c'è chi purtroppo non la riesce ad apprezzare a parer mio devo dire che le ombre sono un pochettino sgravate quando le troviamo due o tre insieme non lo so tanto dura veramente pochi giorni quindi accettiamolo per quello che è e andiamo avanti e vi ricordo che abbiamo delle altre sfide da completare che ancora non sono disponibili ma che arriveranno presto e che ci regaleranno tutti gli ultimi premi che mancano fai danno con un veicolo possesso posseduto in proprie parole con le ombre quando entrate nei veicoli potete possederli bisogna fare dei danni detect player as shadow quindi una volta che siamo con le ombre premete il tasto per trovare scansionare l'area e capire dove sono gli umani eliminare shadow midas attenzione perché non è facile killarlo eliminare le ombre come giocatore visitare diversi watch acts quindi i luoghi dove si possano ottenere le scope e poi consumare del loot leggendario come ombra quindi ragazzi ancora sei sfide che dovrebbero essere separate in due blocchi e che ovviamente arriveranno prestissimo tra l'altro abbiamo uno spezzone di un deltaplano che non è ben chiaro quando arriverà ma sappiamo che farà parte del fort nightmare ve lo voglio fare vedere ragazzi ed è davvero molto molto carino perché è un come vedete una specie di capanna dove c'è dentro un calderone un camino che fuma e assomiglia molto appunto ai white shucks quindi a quelle location dove si possono ottenere le scope volanti credo che potrebbe far parte o di un set dedicato oppure ci verrà dato al completamento di tutte le sfide non lo sappiamo assolutamente ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché da poche ore è disponibile anche il nuovo bundle devo dire una cosa ragazzi cominciano a uscire un po troppi pack in questa season che purtroppo si devono pagare in euro come vediamo ragazzi sono tante le skin che possono essere ottenute con questo bundle quattro skin poi ci sono i dorsi decorativi ossa coccolose boss os oppure siete fritti il doppio piccone osso di manzo il costume fruga ossa e anche la copertura il set in sé è veramente carino poi ci sta tutto per quanto riguarda il tema di halloween 19 99 il prezzo se lo volete ottenere gli oggetti che si ottengono sono tanti ovviamente non sappiamo se uscirà anche l'anno prossimo quindi fateci un pensiero se volete portarvi a casa quattro skin collezionabili per halloween e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché per tutti quelli che ancora non le avessero trovate con la settimana numero 9 sono arrivate anche tutte le monete e questa è la prima settimana dove ci sono due monete leggendarie quindi una bella sbam botta da 30 mila punti più ovviamente tutte le altre monete mi raccomando utilizzate questa mappa se vi serve e ottenete dei punti esperienza extra ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché di nuovo la collaborazione di epi games di fortnite con i ghostbusters non si ferma tante le speculazioni che vengono dette riguardanti le skin che devono uscire o la skin non sappiamo se usciranno tutti e quattro i ghostbusters o se ne uscirà uno solo due non sappiamo se arriverà anche come si dice un bundle dedicato quindi con backpack piccone deltaplano ma quello che ci arriva sono delle immagini davvero incredibili non sappiamo se siano dei concept oppure delle immagini reali c'è da dire che sono fatti davvero in maniera incredibile questo sembrerebbe essere il piccone per chi non lo sapesse allora la base come dice l'impugnatura è quella normale mentre la parte alta è lo strumento che utilizzano i ghostbusters per trovare i fantasmi una specie di coso che ha quelle due astine che si aprono e si chiudono in base a quanto sono vicine le presenze il backpack ragazzi il proton backpack sembrerebbe questo anche lui dovrebbe essere animato questo è il lo zaino che proprio loro utilizzano nel film e che permette appunto di impugnare quella specie di lancia che hanno che spara appunto un raggio per catturare i fantasmi un'altra bellissima immagine di questa mini ecto 1 vi ricordo nuovamente che la ecto 1 è la macchina dei ghostbusters che è già presente in game dovete andare a campo merluzzo nella capanna che trovate coperta da un telo si intravede la ecto 1 questo potrebbe essere un backpack un deltaplano più probabilmente un deltaplano e se così fosse è davvero bellissimo e si termina con questa immagine incredibile perché è veramente fatta benissimo è quello che state vedendo qui è igon uno dei quattro degli acchiappa fantasmi l'unico con gli occhiali che indossa diciamo slimer slimer invece è uno dei fantasmi che loro hanno catturato ma che in realtà poi tengono come mascot mi aspetto di vedere anche slimer se se fosse ovviamente ufficiale questa immagine e sarebbe davvero tanta roba perché completerebbe il quadretto dei ghostbusters e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi in chiusura ragazzi il dream hack in solo si è completato il prossimo lo vedremo a novembre e qui abbiamo la classifica di dei primi 15 qualificati come vedete ragazzi mister savage arriva in terza posizione è uno dei favoriti il signor benji fish invece non riesce ad avere un buon risultato perché si piazza solamente alla quattordicesima posizione primo posto invece per kinzel con 334 punti insomma ragazzi io anche per oggi tutte le notizie di fortnite ve le ho date vi ringrazio tanto per aver guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao